Ciao a tutti cari amici, buonasera e ben ritrovati con un nuovo interattivo con i tarocchi dedicati all'amore. Siamo qui con il nostro consueto appuntamento delle ore 22 con la canalizzazione del pensiero e come potete vedere ho preparato già queste due varianti. La variante rosa, scusate, con la stellina rossa la variante 1, la stellina rosa la variante 2. Io vi invito come al solito a scegliere a distinto, quindi cercate di non fossilizzarvi sul colore che piace a voi o che piace ad altra persona ma proprio distendetevi, cercate di rilassarvi, di lasciare andare tutte le energie negative che durante la giornata un po' si sono accumulate e scegliete proprio a distinto. Io vi lascio un attimo e poi parto subito con la variante 1. Allora, variante della stellina rossa che mettiamo subito qui, vediamo con i nostri oracoli degli specchi che cosa succede per la variante numero 1. Vediamo un po' che cosa ci raccontano per la variante numero 1. Allora, qui già le carte mi anticipano che c'è qualcosa da curare, da sistemare almeno questa persona vorrebbe rimediare a qualche errore che ha fatto all'interno del vostro rapporto vedo che qui c'è attrazione, c'è un forte senso proprio di appartenenza l'uno con l'altro abbiamo una carta che mi parla di sentirsi anche protetti dall'alto quindi una sensazione che questo rapporto non sia arrivato per caso ma che la persona o voi o questa persona per cui chiedete siete arrivati per guidare un po' la situazione, per risolvere delle questioni. Allora, cosa abbiamo qui? Beh, di voi pensa probabilmente che tendete un po' a chiudervi, a proteggervi questo potrebbe essere un atteggiamento sia vostro sia della persona quindi naturalmente se è vostro è lui o lei la persona per cui chiedete che riflette su questo, sul fatto che tendete a proteggervi, a chiudervi se invece la persona stessa che tende ad avere questo comportamento ha proprio il pensiero su questo, cioè che tende a chiudersi, a isolarsi nonostante ci sia il desiderio di avere una vittoria di essere vittoriosi su una determinata circostanza qui secondo me tra di voi potrebbe esserci una situazione un po' di incertezza potrebbe esserci una separazione al momento quindi una distanza dovuta anche ad un litigio ma qua secondo me più che altro potrebbe riguardare questioni finanziarie e economiche per esempio il lavoro che emerge proprio nella carta oppure potrebbe riguardare anche altri impegni che ha questa persona però diciamo che principalmente si parla di distacco potreste veramente essere su due paesi diversi ma potrebbe anche riguardare una separazione difficile vedo che c'è un'instabilità cioè ci si sente instabili di fronte a questo allontanamento di fronte a questa separazione e c'è proprio il desiderio di rimediare, di curare di dare il proprio tempo per risolvere questa situazione perché c'è proprio questo desiderio di vittoria per alcuni di voi ma solo per chi è certo di questa cosa se questa persona è impegnata potrebbe avervi un po' allontanati perché si sta proteggendo da una situazione familiare e qui potrebbe essere vicino ad una possibile separazione però ripeto per alcuni di voi dipende un attimino dalla situazione che avete allora andiamo a vedere con gli oracoli del vorrei dirti che cosa aggiungono allora mi dispiace se ti ho ferito mettiamo qua in basso lo so che ho rovinato tutto non riesco a resisterti ti arriverà un mio messaggio voglio una vita assieme a te sotto abbiamo ti sento ancora mia vedete che qui c'è proprio l'allontananza e il distacco allora abbiamo comunque un uomo e una donna che sanno di aver riferito per qualcosa qui ripeto per alcuni c'è l'allontanamento causato da un litigio lo so che ho rovinato tutto sa di essersi comportato in maniera poco corretta probabilmente qui per alcuni c'è anche un'altra famiglia un altro rapporto ufficiale o degli impegni di cui questa persona magari non vi aveva parlato però sappiate che è un uomo e una donna che vogliono venire da voi vogliono avere una relazione con voi vogliono proprio stare insieme avere un rapporto stabile e ha intenzione di contattarti questa persona quindi di scrivervi e di probabilmente incontrarvi ma direi anche esprimere quello che sente in questo momento allora andiamo a prendere un messaggio motivazionale per voi quindi per la variante rossa vediamo che cosa vi dicono la mia parte divina mi collega a tutto il creato siamo tutti uno sarai baciato dal divino e avrai la possibilità di vivere un momento di pura ecstasy percepirai l'unità la matrice di tutte le cose ti sentirai chiamato ad aiutare il pianeta terra potresti diventare portavoce dell'importanza della tutela ambientale fare volontariato per gli animali o aiutare gli altri non importa cosa farai l'importante è che tu agisca in modo tollerante e amorevole con tutte le creature che incontri sul tuo cammino perché ricorda siamo tutti uno allora cosa ci sta dicendo la carta? beh direi che un po' vi sta indirizzando a un'apertura un'apertura verso altre situazioni magari anche a realtà nuove di sicuro sono aperture che riguardano delle convinzioni importanti qua parla di volontariato verso gli animali verso le altre persone secondo me mi dà l'idea che quelle ad essere chiuse siete un po' voi qui perché le carte proprio ci parlano di bisogno di aprirsi di offrirsi vediamo l'altra carta cosa dice se funziona ci credo o funziona se ci credo sei di fronte all'eterno dilemma se funziona ci credo o funziona se ci credo ti ostini ad un rapporto scusate ti ostini ad opporti alla regola di questa legge sei tu a dover credere fermamente che una cosa va in un determinato modo affinché ciò avvenga non puoi impuntarti e aspettare che sia l'universo a dimostrarti che puoi fidarti di lui l'estrazione di questa carta è una chiamata ad avere fiducia sia in te stesso che nell'universo se tu per primo non ci credi chi ci crederà? allora un po' di fiducia in voi stessi qui quindi c'è mancanza di fiducia nei confronti di quello che siete in grado di fare di quello che potete sostenere quindi aprirsi e donarsi e credere più in voi stessi magari cercate di fare qualcosa che vi piace di coltivare una passione un hobby non so se avete voglia di migliorarvi di tagliare i capelli di cambiare look fatelo questo vi stanno un po' dicendo le carte andiamo a vedere il consiglio io vi ricordo sempre che se volete un consulto privato mi potete contattare via whatsapp al 371 636 0228 mi raccomando solo messaggi scritti perché non riesco ad ascoltare i vocali mi iscrivete e vi mando tutte le possibilità che avete per fare un consulto allora qual è il consiglio non mettetevi in situazioni difficoltose nel senso di dover scegliere tra più situazioni allora in questo momento vi vedo un po' incastrati ecco cercate di uscire da questa situazione questo è un po' il consiglio della carta sappiate che prima o dopo dovete scegliere che cosa fare nonostante l'indecisione alcuni ci sono già in questa scelta altri ci arriveranno ma questo è un po' il consiglio delle carte prendete una decisione non rimanete in bilico andiamo a vedere il senso di Akali allora per la variante della stellina rossa abbiamo la vergine il segno del toro cancro sagittario e il segno dello scorpione quindi vergine toro cancro sagittario e scorpione va bene variante della stellina rossa io vi ringrazio per aver seguito mi raccomando mettete un like iscrivetevi al canale e attivate la campanellina così vi arrivano tutte le notifiche dei video che carico io vi mando un abbraccione grossissimo vi aspetto domani con una nuova canalizzazione ciao a tutti e buonanotte allora vado a raccogliere le mie carte e passiamo subito alla variante 2 quindi per coloro che hanno scelto la stellina rosa allora variante 2 eccoci qui benvenuti e bentrovati anche coloro che hanno scelto la stellina rosa e prendiamo i nostri oracoli degli specchi e andiamo subito a vedere che cosa ci raccontano per la seconda stesa allora cosa abbiamo qui beh la carta principale è il centro della stesa mi parla proprio di amore di sentimenti di affetto di qualcosa che ci stimola dal punto di vista sentimentale qui c'è proprio del sentimento quindi abbiamo una persona che vi ama che vi vuole vicine abbiamo il bisogno il desiderio qui di un contatto da parte di questa persona vedo che al momento ci sono dei ritardi tra di voi ritardi potrebbero essere dovuti per la maggior parte di voi a degli impegni di varia natura potrebbe essere il lavoro potrebbe essere la famiglia di origine ok c'è un momento di pausa questa persona forse si è un po' allontanata sta seguendo altre questioni io vedo qui che potrebbe essere anche concentrato sull'aspetto lavorativo proprio finanziario perché mi esce su ben due carte questa cosa quindi probabilmente potrebbe avere anche dei problemi legati ai soldi è un uomo magari anche importante che è al centro dell'attenzione e quindi si sente anche un po' giudicato e cerca di fare il passo in funzione della gamba quindi ha un modo di agire probabilmente anche un po' lento per mantenere proprio il giusto equilibrio essendo importante essendo osservato è una persona che vi vuole contattare che vuole scrivervi probabilmente proprio vi comunicherà questi suoi impegni dal punto di vista lavorativo che causano questo ritardo ma comunque è una persona che vi ama ha dei sentimenti qui abbiamo un ritorno e la carta della famiglia allora per alcuni di voi è proprio una persona che è lontana per questioni d'affari e l'intenzione è proprio quella di ritornare a casa se non avete ancora di costruire una famiglia cioè c'è il desiderio di ritornare in senso di costruzione di una nuova famiglia altri se siete già sposati o avete una convivenza ma questa persona è distante sta proprio pensando di ritornare a casa attenzione perché se qualcuno è impegnato già o voi o quest'altra persona c'è un po' il bisogno cioè il bisogno la necessità più che altro di ritornare appunto in famiglia cioè la persona vi ama i sentimenti di prova però potrebbe appunto comunicare con voi qualcosa che vi creerà forte squilibrio o cioè il fatto di ritornare in famiglia soprattutto se questa persona al momento è distante dal rapporto ufficiale e per questioni appunto di lavoro e quindi avrà prossimamente un rientro naturalmente è questo se sapete che questa persona è impegnata quindi se avete la certezza che c'è una relazione ufficiale andiamo a vedere col vorrei dirti che cosa aggiunge devo chiudere il nostro rapporto ho paura di restare da solo mi sono buttato nel lavoro per dimenticare guardate un po' cosa esce ti desidero mi sento soffocare e sono confuso non so che cosa voglio allora qua direi che per la maggior parte riguarda proprio una persona che ha già una relazione qui c'è appunto questa distanza per vari impegni è una persona proprio che si è buttata nel lavoro cioè ve lo fa vedere nelle carte poi ve lo dice anche dice devo chiudere il nostro rapporto secondo me qui per la maggior parte di voi c'è proprio un uomo che ha una famiglia ufficiale ed è ha intenzione proprio di ritornare all'interno di questa famiglia però sappiate che comunque quei sentimenti ci sono è confuso non sa cosa vuole quindi non sa cosa fare probabilmente al momento la situazione più stabile è proprio il rapporto ufficiale e quindi mette in disparte voi e quello che prova a discapito vostro per la famiglia però dice ti desidero mi sento soffocare secondo me questa persona si sente molto imprigionata molto bloccata perché se fosse libero da impegni verrebbe direttamente da voi ma qui probabilmente non lo è per la stragrande maggioranza fatemi un po' sapere nei commenti mi raccomando raccontatemi la vostra storia io vi ricordo che se mi volete contattare per un consulto lo potete fare via whatsapp al 371 636 0228 è sufficiente che mi scriviate un messaggino scritto io poi vi rispondo e vi mando tutte le possibilità per un consulto allora vediamo questi messaggi motivazionali per voi quindi sono delle frasi che servono a voi per capire dove dovete concentrarvi su cosa dovete lavorare allora io vedo con gli occhi della mente e sento con le orecchie del cuore i tuoi poteri interiori si stanno risvegliando forse ti stanno capitando cose che non sai spiegare fai sogni particolari o pensi di avere dei doni sappi che è così prendi le cose che ti capitano come un'opportunità per crescere ed evolverti e ricorda che tali prove servono a farti superare quei limiti solo in apparenza invalicabili che si frappongono tra te e i tuoi talenti accetta la sfida e accogli i doni che ti rendono unico allora qui probabilmente qualcuno tende un po' a sottovalutarsi a sottovalutare le percezioni sottovalutare le sensazioni che avete nelle persone nei rapporti la prima il primo intuito che percepite quando avete una persona di fronte voi dentro all'interno della vostra anima sapete già dove vi state direzionando e come andranno a finire le cose è solo che qui non l'avete ancora capito dovete un po' crederci è sicuro per me essere potente essere potente è una scelta che devi rinnovare ogni giorno perché il tuo potere personale è un dono prezioso sei un leader nato che può fare la differenza in ogni situazione trova il coraggio di esporti dire la tua e farti valere ricorda che nella vita hai sempre due strade davanti a te la via del potere o la via dell'omologazione alla massa smetti di avere paura e scegli di essere potente solo tu puoi decidere allora decidete avete tutte le possibilità di imporvi nelle vostre scelte quando volete qualcosa lo sapete ottenere dovete tirarlo fuori questo è un po' dovete un po' lavorare su questa capacità perché ce l'avete ma probabilmente qualcuno di voi se ne è dimenticato o anche a causa di educazione di forme anche di un po' l'essere buoni a volte porta gli altri a sottovalutare o a prendervi in giro ecco allora qual è il consiglio combattete per quello che desiderate sempre quindi cercate anche di non bloccare i sentimenti l'amore le cose positive che vi arrivano a causa di questa armatura che indossate ma combattete per i vostri obiettivi sempre vediamo il signo di Akali che abbiamo qui allora il segno della vergine qua abbiamo la bilancia il segno dei pesci il segno dello scorpione e il toro va bene variante della stellina rosa io vi ringrazio mi raccomando commentate raccontatemi se la situazione se risuona la stesa con voi io vi invito a mettere un like ad iscrivervi al canale ad attivare la campanellina così vi arrivano tutte le notifiche dei video che carico mi trovate su instagram su tiktok su facebook quindi se mi volete contattare lo potete fare serenamente in tutti i social io vi mando un abbraccio e vi aspetto domani alle ore 22 con una nuova canalizzazione ciao a tutti e buonanotte e buonanotte e buonanotte